Nel mirino del nuovo redditometro soltanto i grandi evasori. PIA arriva l'obbligo di censire gli oneri introdotti o eliminati con i regolamenti ministeriali. L'Italia innova, ma lascia indietro gli anziani, la denuncia dell'ANAP. Confartigenato sconta le tariffe SIAE. Benetton taglia l'indotto. Dal 2014 a rischio 100 subfornitori. Buongiorno e bentornate all'appuntamento settimanale con il Tg di Confartigenato. L'amministrazione fiscale getta acqua sul fuoco delle polemiche provocate dal redditometro. Il nuovo direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate incontra Confartigenato e rassicura. Niente paura, servirà a scovare la vera grande evasione. I dettagli nel servizio di Lorenza Manessi. Chi già si preparava a conservare gli scontrini della spesa al supermercato può mettersi l'animo in pace. Il nuovo redditometro non entrerà nei dettagli dei consumi quotidiani dei cittadini. Nessun accertamento di massa, ma una selezione intelligente di quelle spese sospette che superano largamente i redditi dichiarati. A precisare i contorni del nuovo strumento fiscale è stato il direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, Salvatore Lampone, il quale, a pochi mesi dalla nomina, ha scelto Confartigenato per spiegare come si applicherà il nuovo redditometro. L'8 febbraio, a un seminario organizzato a Roma dalla Confederazione, in collegamento con 115 sedi territoriali e al quale hanno partecipato oltre 800 operatori, il direttore Lampone ha cercato di ridimensionare l'allarme creatosi nelle scorse settimane. Non si tratta di uno strumento di accertamento di massa. È uno strumento di accertamento che sarà applicato nei confronti di qualche migliaio di persone, per l'esattezza circa 35.000, e che andrà a trovare, a catturare quelle situazioni di scostamento assolutamente importante tra le manifestazioni di spesa e il reddito dichiarato. Quindi la gran parte dei contribuenti, direi i milioni di cittadini, che vivono e spendono sulla base di un reddito normalmente posseduto, in modo assolutamente trasparente, devono e possono stare tranquilli. Per i cittadini, nessun obbligo di conservare quintali di scontrini e ricevute fiscali. Non è richiesto alcuna forma di contabilità, non è richiesto alcuna baule capiente in cui da riempire di scontrini e ricevute, non è questo che viene richiesto ai contribuenti. Il direttore Lampone ha rassicurato anche sul fatto che non verranno applicati automatismi nell'utilizzo degli indici Istat. Cambia il sistema, cambia il sistema nel senso che non è affidato all'applicazione di indici parametrici o coefficienti che tendevano a ricostruire sinteticamente il reddito, ma è fondato con una prospettiva ribaltata direi a 180 gradi. Si parte dal dato oggettivo, questo è il punto. Alle parole tranquillizzanti del direttore dell'accertamento, deve ora seguire la circolare dell'Agenzia delle Entrate, attesa nei prossimi mesi e che darà il via libera definitivo alla concreta applicazione del redditometro. E proprio in vista dell'emanazione della circolare, il direttore dell'accertamento ha sottolineato l'importanza del contributo di proposte da parte delle organizzazioni imprenditoriali come confartigianato. Ci muoviamo sull'onda di un principio importante che è statuito anche dallo Statuto del Contribuente, che è quello della collaborazione con il contribuente anche attraverso le sue forme di associazioni di categoria. Primi passi della pubblica amministrazione italiana verso la riduzione degli oneri burocratici per imprese e cittadini. Dal 19 febbraio infatti è in vigore il regolamento d'attuazione dell'articolo 7 dello Statuto delle Imprese, che obbliga le amministrazioni pubbliche a pubblicare la lista degli oneri introdotti o eliminati con i regolamenti ministeriali. Lo Statuto, che punta alla riduzione del carico burocratico per le imprese e per i cittadini in linea con gli obiettivi dello Small Business Act, vuole responsabilizzare le amministrazioni nel censimento degli oneri eliminati o introdotti, in linea con il principio di proporzionalità per settore e dimensione d'impresa e va nella direzione di una sempre maggiore trasparenza dello Stato nei confronti di imprese e cittadini. L'Italia porta avanti il processo di snellimento burocratico del paese, ma sembra dimenticarsi degli anziani, una fascia corposa della società che rischia di rimanere ai margini di un paese in cerca di rinnovamento. I dettagli nel servizio di Fabrizio Cassieri. L'Italia ha iniziato un lento ed irreversibile processo di rinnovamento sociale, tecnologico e burocratico. Un rinnovamento che tutti sostengono perché migliorerà il paese, semplificando la burocrazia e riducendo la spesa pubblica, ma che sembra stia facendo perdere il contatto con una fetta importante della popolazione, gli anziani. Una prima conferma a questa sensazione arriva dalle decisioni dell'Inps, ancora non ufficializzata però, di rendere disponibile il MUD e il modello 0B-SM soltanto per via telematica. Il 25% degli italiani è rappresentato dal mondo dei pensionati e quindi partendo da questo presupposto quantomeno qualcuno doveva intervistarsi, doveva interrogarsi, doveva sentire anche quelle che sono le nostre esigenze, quando purtroppo nel nostro mondo pochissimi sanno usare questi strumenti, troppo pochi per poter accettare una proposta di questo genere qua. Oltretutto, e cosa ancora più grave, l'Inps avrebbe preso questa decisione senza ascoltare le parti sociali ed allargando l'invio telematico anche ad altri adempimenti. Se a questo aggiungiamo che il rischio è che non venga neanche spedito un altro modello, che è lo 0B-SM, è l'unico documento dove il pensionato può leggere se la pensione che percepisce è costituita bene, se ci sono gli assegni familiari, se le detrazioni vengono applicate, come si deve, abbiamo un istituto che non dialoga più in alcun modo con una larghissima fetta di persone, parliamo di 16 milioni di pensionati, di cui la maggior parte di una certa età, per cui poco pratici di strumenti telematici, crediamo che non sia questo il modo di risparmiare. Oltre alle indiscrezioni sulle prossime iniziative dell'Inps, c'è un'altra pensata, questa volta dell'Istat, che conferma il timore di un'Italia che dimentica gli anziani. Nel dare l'elenco dei prodotti del nuovo paniere, infatti, l'Istituto Nazionale di Statistica ha escluso molti beni tradizionali per far posto ad una serie di prodotti tecnologici, che usano i ragazzi però, non gli anziani che vivono con 500 euro al mese di pensione. Il nuovo paniere non rispecchia certamente la condizione degli anziani. Se consideriamo che l'inflazione programmata viaggio a 2%, mentre i geni alimentari sono aumentati da 3,8%, i pensionati recuperano solo il 75% della programmata e addirittura se superano 1.400 euro di pensione al mese non recuperano nulla, per questioni normative introdotte dal governo Monti, crediamo e diciamo che forse sarebbe opportuno che l'Istat valuti la condizione anziana con un altro paniere. Fotografiamo qual è la situazione e poi ragioniamo in un paniere più unico come vanno trattati i pensionati rispetto agli operai o rispetto ad altre categorie che comunque hanno un contratto di lavoro per recuperare l'inflazione, per recuperare il potere d'acquisto. L'allarme è lanciato. L'ANA ha palzato al massimo il livello di attenzione sulle iniziative prese per rinnovare il Paese, senza però abbandonare al proprio destino gli anziani, una fetta consistente della popolazione. Confartigianato ha rinnovato anche per il 2013 la convenzione con la SIAE, la Società Italiana Autori ed Editori. Grazie a questo accordo le imprese associate alla Confederazione potranno beneficiare di una riduzione del 25% per la diffusione di musica d'ambiente nei locali aperti o meno al pubblico dove svolgono le attività. La convenzione si applica anche ai compensi previsti per l'utilizzo di musica nelle attese telefoniche e per la diffusione di musica a bordo di automezzi pubblici. In questi casi lo sconto per le imprese associate è del 40%. Prevista inoltre la riduzione del 10% per gli intrattenimenti musicali senza ballo. Usufruire dello sconto sulle tariffe è facile. È sufficiente presentare agli uffici della SIAE una dichiarazione di regolare iscrizione a Confartigianato per l'anno in corso. Il termine per il rinnovo degli abbonamenti e quindi per il versamento dei compensi usufruendo della riduzione è fissato al 28 febbraio. In Veneto esplode il caso Benetton. Dal 2014 il gruppo di Ponzano Veneto potrebbe bloccare le commesse esterne a oltre 100 laboratori artigiani. Confartigianato abbigliamento lancia l'appello. La produzione resti sul territorio. Ivan de Menego Un divorzio doloroso che per una delle due parti ha risvolti drammatici è quello che si sta consumando in questi giorni in Veneto tra la Benetton e la miriade di piccoli laboratori tessili che gravitano attorno al colosso della moda trevigiano. A partire dal 2014 il gruppo di Ponzano Veneto avrebbe deciso di dismettere la gran parte delle lavorazioni fatte in Italia procedendo allo stop degli ordinativi da ditte esterne. La notizia è trappelata dall'incontro del 6 febbraio tra imprese e sindacati. L'operazione dovrebbe riguardare circa 130 laboratori sparsi in tutto il paese con una forte concentrazione nella zona della marca per un numero di dipendenti difficilmente stimabile. Si sta chiudendo un capitolo della nostra storia fatto di operosità, ingegni e creatività ha commentato il presidente della regione Luca Zaia. A questa crisi infatti si somma quella dell'Electrolux e di altri marchi storici come Stefanelle Marzotto che hanno rinunciato da tempo alla produzione in Italia decretando di fatto la fine di quel modello di sviluppo del nord-est nato dal fit in treccio tra piccole imprese e industrie. Non siamo più appetibili per i nostri committenti. Questo non posso viaggiare anche la Benetton o altri nostri committenti. È il sistema che è sbagliato attualmente. Purtroppo questo è un guaio. Non possiamo competere con stati o nazioni in cui il prelievo fiscale è molto inferiore al nostro e i contributi dipendenti sono molto inferiori. Quello che a me dispiace è che lasciano tutto quanto il territorio facendo, secondo me, danni enormi al territorio perché muore tutta quella produttività e quella capacità produttiva che noi avevamo. Nei tempi d'oro il sistema legato al gruppo Benetton contava fino a 3.000 laboratori contoterzisti dando lavoro a oltre 20.000 addetti. Dalla fine degli anni Ottanta in poi complici costi della manodopera inferiori anche del 40% rispetto a quelli italiani le produzioni testili sono state spostate all'estero. Oggi di quella complessa filiera di sub-fornitura rimangono circa 100 ditte o poco più la cui sopravvivenza è appesa a un filo. Se perdiamo anche questa il manifatturiero ha un altro bei colpo forte perché non dimentichiamoci che non c'è solo la Benetton ma c'è anche l'Eletrolux e ci sono anche altre aziende che mai stanno relocalizzando del tutto. Benetton ha dato molto e ha avuto molto spiegano gli artigiani che ora chiedono che si faccia ogni sforzo per mantenere la produzione in questi territori. Confartigianato rilancia la proposta avanzata quest'estate al gruppo dei Colori Uniti la creazione di una linea di prodotti di fascia medio-alta realizzati esclusivamente in Italia riconoscibili dal marchio di qualità di Confartigianato 100% made in Italy. Facciamo un prodotto e vediamo se funziona per il made in Italy è molto ricercato però è ricercato il made in Italy di qualità no made in Italy fatto in Cina o da un'altra parte. Roma 21 e 22 febbraio a lezione di credito alla Scuola di Sistema di Confartigianato due giornate di formazione dedicate agli operatori delle associazioni territoriali. Milano dal 3 al 6 marzo Confartigianato Moda protagonista al MECAM al Salone Internazionale della Calzatura dimostra il meglio della manifattura artigiana made in Italy. Siamo in chiusura e questo è il momento come sempre di vedere insieme a voi le rilevazioni dell'ufficio studi di Confartigianato nella nostra rubrica Il numero della settimana. Vediamo 4.461.536 è il numero di ore di cassa integrazione autorizzate nell'artigianato a gennaio 2013. È tutto l'appuntamento è sempre per lunedì alla stessa ora sul sito di Confartigianato. Buona settimana e buon lavoro.